Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPI-LI fare inoltre attenzione per materiali dispersi tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa e per un veicolo fermo tra Scandicci e La Strassigna in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e Sandonato in direzione Firenze. Chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Nord. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Rio Torto e Venturina in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Pisa e Dogana Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!